ben ritrovati dalla redazione di cosmopolis media ecco le nostre notizie più portualità e più mediterraneo la guerra in ucraina sta ridisegnando le mappe dei commerci mondiali cambiando l'ordine dei trasporti internazionali economie geopolitica non sono momenti diversi di un eguale sistema di riferimento con l'impraticabilità dello scalo di odessa sul mar nero la nuova via della seta cara ai cinesi andrà riposizionata attraverso le direttrici riferibili al mare nostrum e ciò che ercole in calza chiama il protagonismo ritrovato di un mezzogiorno piattaforma logistica naturale tra storia e modernità presente avvenire di un progresso mobile per sua stessa vocazione taranto ancora una volta dinanzi a sé un'occasione irripetibile recitare la parte di dominus tra i porti ab del mediterraneo più di cagliari meglio del pireo con maggiori chance di successo rispetto a scali spagnoli come quelli di valencia e alghe siras si definisca al più presto il rapporto mai partito con i turchi di ilport se serve rivedere le concessioni rescindere il contratto lo si faccia pure alla nostra piastra logistica non manca di certo l'appeal verso investitori internazionali le guerre ridefiniscono i rapporti di forza da sempre ma taranto con la sua infrastruttura di maggior prestigio deve darsi una mossa il bollettino diramato il 29 marzo dal ministero della salute segnale in italia 99.451 nuovi casi di contagio da covido 19 e 177 decessi il tasso di positività è pari al 15 per cento in puglia 10.805 contagi registrati su 48.726 test effettuati 10 le vittime e un tasso di positività al 22,17 per cento nel tarantino 1.431 positività emerse degli attualmente positivi in regione 116.924 691 sono ricoverati in area non critica e 38 in terapia intensiva i militari della compagnia di massafra con il supporto dei colleghi di napoli hanno arrestato un 46enne e un 24enne di origine partenopea ritenuti responsabili di furto aggravato in abitazione e truffa ai danni di una 85enne del capologo ionico prima i due hanno inscenato una finta telefonata da parte di un nipote che lasciava presagire un pericolo imminente ai danni della propria madre a fronte di una richiesta di 3.800 euro per evitare conseguenze peggiori per una finta denuncia poco dopo la presentazione presso l'abitazione della donna da parte di un presunto conoscente del nipote per la riscossione della somma che a causa dell'indisponibilità economica della vittima si appropriava di anelli bracciali e altri oggetti in oro nella circostanza l'anziana donna è stata convinta dal soggetto a entrare unitamente a un complice nell'appartamento adiacente di proprietà della figlia dove i malviventi hanno asportato la cassaforte dopo aver distratto la malcapitata per i due sono scattati gli arresti domiciliari dopo due settimane di stop forzato torna finalmente il campionato per il taranto di peppe la terza che uscito dalla pesante ondata covid che lo ha falcidiato si accinge a calcare il rettangolo di gioco nobile del renzo barbera con l'obiettivo di portar via punti pesanti il tecnico non avrà a disposizione marsili e leandro versienti ma recupera di gennaro de maria labriola e l'ex della partita e palermitano doc andrea saraniti difficile ipotizzare l'undici iniziale dei rosso blu che tuttavia dovrebbero scendere in campo con il consueto 4 3 3 tra i pali spazio a chiorra con ferrara zullo benassai e riccardi a comporre il pacchetto arretrato in mediana sicuro di una maglia pare essere l'altro palermitano vero marco civilleri con labriola supporto e di gennaro in cabina di regia davanti nessun dubbio per giovinco e saraniti mentre l'ultima casacca da titolare resta contesa tra manné e mastro monaco in casa palermo out mister baldini positivo al covid l'unico assente dovrebbe essere lo squalificato ogier 4 2 3 1 questa pare essere la strada tracciata con pelagotti tra i pali a cardi lancini per rotta e giron sulla linea di difesa de rose e dall'olio nella zona nevralgica valente luparini e floriano a supporto di bomber brunori dirigerà la contesa il signor federico longo della sezione di cosenza coadiuvato dagli assistenti fabrizio giorgi di legnano e veronica vettorel di latina quarto uomo sarà luigi catanoso di reggio calabria fischio d'inizio alle ore 14 e 30 questa era l'ultima notizia dalla redazione di cosmopolis media è tutto al prossimo notiziario e l'ultima notizia che Grazie a tutti.